Le proposte che abbiamo per incoraggiare l'economia da subito, non vado qui nel dettaglio, le avrete già sentite, sono proposte che riguardano la liquidità dell'impresa e i pagamenti della pubblica amministrazione, sono proposte che riguardano gli enti locali, la possibilità di fare un piano di piccole opere che parta subito, a cominciare dalle cose che servono ai cittadini, le scuole che stanno venendo giù in questo paese qui. L'economia verde, riqualificare il costruito, non possiamo consumare territorio, ma c'è tantissima cosa da fare, nelle città, per le case, una grande infrastruttura, noi dobbiamo modernizzare a partire dal mezzogiorno, la banda larga, devono partire imprese di servizi, fatte dai giovani, nell'informatica, nelle comunicazioni, ci vogliono politiche industriali, ho detto riprendiamo i programmi del centro-sinistra abbandonati, riaggiorniamoli, politiche industriali che vuol dire per l'agricoltura, vuol dire per il turismo, vuol dire per l'industria, ma vuol dire anche per la cultura, perché non è vero che con la cultura non si mangia, si mangia e si beve con la cultura. E cerchiamo di fare attorno a questo una ripresa di...